Amici cari, amici belli, come va? Tutto bene? Me lo auguro col cuore! Starete pensando sicuramente, ma com'è? Stasera, non ci stanno i partiti, stanno i guadagnoli che la bantissima, ma quanti auguri si scima è una noia, camma faccia, ma divertì, facciamoci le resate. Niente, praticamente, volevo raccontarvi un fattarillo che mi è accaduto a Napoli pochi giorni fa. Ora, Napoli, 17 ottobre, mi trovavo lì per fare delle commissioni quando a un certo punto prendo il pullman che mi deve riportare sul porto dove devo andare a prendere l'alescafi per tornare a Ischia. Ora il pullman mi lascia al lato dove partono i traghetti, dovete sapere che sul porto di Napoli c'è un lato traghetti e un lato alescafi, e c'è una navetta, un pullman che fa la spola fra il molo traghetti e il molo alescafi. Ciaramente io salgo su questa navetta perché dovevo andare al molo, l'escafi, e mi accomodo dulcemente sulla mia sedia. Era da poco terminata la partita a Napoli, quando a un certo punto l'autista mi guarda. Buonasera, buonasera, faccio. Guardi, hai visto che è Napoli? Ho scattato la capa di sticcata. Sì, ma troppo fa. Ma come sì? Sì, ma troppo fa. Noi abbiamo uno squadrone. C'abbiamo. Noi, 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 teniamo uno squadrone, siamo troppo forti. Cioè, ma tu direi... Cioè, a su Sarri, non lo sapevo proprio a Sarri. Ma devo dire la verità, sta facendo belle cose questo cristiano, ma io non... Cioè, veramente sono entusiasta. Cioè, capite? Scusate, poi si dice, no, mi fa parlare perché... Guardi, come ti chiami? Armando. Mamma mia, Armando, capite? Guardi, Armando, Maradona, ma tu sei un grande. Ma è veramente... No, ma mi fa parlare perché mi ho detto una cosa. Se non se ne andava a cavare nella pezzi. Noi facciamo risorse aperte a chi si cava. Pure in Europa. Bungo da banca. Teremo ammazzate a tutto quanto. Noi siamo troppo forti. Ma siamo chi? Noi, noi. Perché noi ci possiamo parlare fra di noi. Fra le valetanie. Scusate, ma posso dire... No, ma mi fa parlare. Ci ha sfocato. Ci ha parlato. Scusate, ma non è troppo forti. E posso dire una cosa. E... 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 Meno male che la Juventus... E... E... Capite, che a chi se l'aveva seconda? Meno male che la Juventus quest'anno fa cacare. No! E caro, stai sbagliando. E tu stai sbagliando perché? Perché la Juventus è una grande squadra. Noi fra di noi ce lo possiamo dire. Fra di noi. Guardi, la Juve è forte. Cioè... Ha fatto... Guardi, guardi, lo stadio, il merchandising, tutte queste cose. Poi, tutti questi giovani che compriano per il futuro. Rugani, Rugani. Io volevo indonare la Rugani. Tu non volevi vicino a me. Tu non volevi a Rugani. Come? Non volevi a Rugani. E allora... Ti coglio di bala tutti i giovani, capite? Perché quello che hanno fatto anche la squadra per il futuro. Questi qua. Sono una grande organizzazione. Ma veramente... Guardi, mi ho detto una cosa. Io non mi metto paura niente a Roma e niente a Fiorentino. Noi ci siamo a preoccupare la Juve. Perché la Juventus è una grande squadra con una grande organizzazione. Noi siamo sportivi frati. Noi ce lo possiamo dire. Proprio in quel momento, in quel momento lì, sul pullman, sale un mio amico. Il mio amico appena mi vede. Ui, Armandino, Juventino. Non stiamo venendo a Torino. Oh, mamma mia, c'è il cacopinato. Ma che l'autista mi guarda? Ma non ci capite, ma voi finiamo mi pigliate per il culo. Chi va a giugliare per il culo? E ma voi siete gioventino? Voi siete una frangatezza, ladri. Siete una squadra di merda. Fate schifo. Vergognatevi. Sì, voi siete mariulo. Insomma, che stiamo arrivando a fare sì? Eh, siete una banda di ladri. Vergognatevi. Schifo. Sì, non se cosa così. Al chiamo, a un certo punto non ce l'ha già fatta. E sono dovuto uscire dalla mia persona, quale educata che io sono. E mi sono dovuto calare del personaggio, diciamo, per poter adeguarmi alla situazione. Anche a giurità vicina all'autista. Odzi. Ma chi cazzo ti sa? Ma come ne porto a me o no? Ma che ti capire? Ma tu stamattina sei sceso per il portopulmone? E' il portopulmone! E non ci rompere la terza parte, 87. Facetevi con i carveri di carri. E allora, è un po' di coerenza nella vita. Di meno, due minuti fa, perché te credo che ieri uno di voi su Napoli e hai fatto tanta elogia? Certo, questa è una persona intelligente. Allora mi sto sbagliando io? E invece no! Come capite che ero io vendita di cagnata fa? C'è nulla, insomma, un po' di coerenza nella vita. Porca la miseria! E scusatevi! Scusate lo sfogo, perché quando c'è voi c'è voi. Comunque oggi è pure Santa Armanda. Voglio una mima regalata. Noi cose per mettere il telefono, che prima facevo il video che mi muovevo tutto. Noi invece posso anche gesticolare per far sì che insomma ci possiamo intendere meglio. Va bene? Che dirvi ragazzi? Io vi saluto, vi auguro la buonanotte a tutti. Da Diego e Armando. E tutto? Ci vediamo domani sera, giornata di campionato infrasettimanale. Forza Juve sempre! Ok? E viva lo sport e l'amicizia! E non vi dimenticate di un'altra cosa. Rispetto nella vita. Il rispetto ci vuole. È chiaro? Buonanotte! Ciao! Ciao!